Le alalette è il numero dei sdot della Ush di Ladins, ricca di neves e approfondimenti. Sulla prima piatta allerga la riflessione di Danny Dorigo sul simbolo più importante ricca di significati del popolo ladin. L'argomento va in attenzione con i commentari di vicepresidente Ladins della provincia di Busan, Daniel Alfreider, e del consejo della regione Trentin-Suttiro, Luca Guglielmi. Dell'attualità le lascon tre di indrezziare del streaming su YouTube dalla PT. Il ringraziamento dell'Unione Generale di Ladins della Dolomite, siamo segnati che sono in Ladin, cedeando la bandiera. La festa del nostro linguaggio e nostra identità che avverte si usano sul web. Della piatta di Solamont, scurriamo le erbe migliori per cozinare che ne esporci la natura, che è il tempo dell'anno. I suonatori della banda di Ampezze e all'urriere per indrezziare la gran festa della banda di Aost. Della piatta della Valbadia, il vicedirettore dell'Ispettorat forestal da Bornec, risuona della situazione del bosco. Della piatta di Fasso, fassano a Saerche a Ciampedelle e poi avvia i prelieves per trovare la presenza di anticorpi. Che la parocchia si andrezzà per orirla a Gesies, ma per indena demò per l'orazione personale. E usano fuori alla neve dell'ordenanza del Presidente Fugatti, esitando ora ai cattori di me. Da Podore sono un della frazione di Vic, che ha belle che sturtà sui l'urriere per rincurare sull'egnam croda. Del suon che l'estate taut su a l'urere per il servizio di verdia forestale. Dell'azione di solidarietà dell'Agenzia di Arsigurazione dei Pardacci. Della trasmissione radiofonica che Monica Cigolla porta in ante per l'Unione di Ladins da Benchinessegni. Ed è la protezione più adattata che il gruppo di Bontemponi gesporcia ad uccibeci della scuola del Comune di Saint-Jean. Tenente vista il suon Andrea dell'Antonio ne conta di si esperienza a Chiotola, che è il vif da velc meis per miurere il giapponeis. Da Podore sono un conto del buon esit della scommenzativa per fornir sui spazi sala verta del Comune. Ricordone varisto sulla ruf da Ciampedel, del grado scritto di Anneliese Vian. E non ben voluto a Duce che le rende la memoria storica di Pozza. Te sott, nel concorso del retrato. Sulla piazza dell'Aus e della scuola, tra i suoi ne conta dell'esame che segnerà sia vita, che stouta del dut desferente da Duce Etres. Ed escorrione l'attività di spisedes dalla maestres della scuolines provinciales per mantenirvi i fili am, coi più picciui. La scuola dei Ortisei, insieme a Chiela di Fas, le ha anche i risetti istituti che in stadia ci appare con gli oscimenti che genera il mezzo di miurere sia preferita didattica e sportiva. Della piatta del sport, va in alto appuntamento con i miuristi atleti del nostro val, che stouta quel cicliste Fassan sta attenzio campion italiano. Da Podore sono un'unice dell'edizione dell'album particolera della Gare Seda, che aveva due belle che cincenti partecipanti. Sulla uscilla di insa ogni vender, potete trovare la neve sdaduta alla radinia. Per info e abbonamenti potete viaggiare alla redazione di Fas su Stradona St. Jean. Telefon 04, C2, 76, 45, 45. Mail, fascia, sniecola, laus.it Il suo interladino lente online sul sito www.laus.it o te la botella che è il suo esde tutta la val. A presto!